Questo programma è offerto da... Per le azioni online interattive e pratiche in presenza a Roma, il nostro Master ti prepara per una carriera di successo nel mondo dello sport e del benessere. Approfitta anche dei nostri stage garantiti presso importanti associazioni e strutture sportive. I posti sono limitati. Iscriviti oggi stesso e dai il via alla tua carriera. Contattaci al numero 329 749 0729, richiedi info via WhatsApp o vieni a trovarci in sede. I controvigilantes sono indagati per omicidio per terintenzionale. Intenzionali avrebbero causato la morte in un 62enne cardiopatico di Vico e Quenze. Testimoni hanno raccontato l'aggressione prima verbale e poi fisica subita dal duomo. 24 tonnellate di alimenti in una norma sequestrate nelle province di Avellino, Benevento e Salerno. Maxi operazione dei NAS, 182 sanzioni elevate, 11 attività sospese. Aggiornare la mappa inesistente dei sottoservizi a Napoli, manutenzione ordinaria prima delle emergenze del resto del territorio. Focus di ride sul dissesto idrogeologico in Campania. Appello alla regione e gli operai forestali stagionali in Campania la formazione prioritaria per ridurre i costi rispetto all'emergenza e noi sentinelle del territorio. Piazza Lagarda, Montesarchio, sgominato giro di vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. Tre persone finite domiciliari, altre tre con obbligo di firme. Sarà affidato ai servizi sociali della parrocchia. Isaiglia, il trentenne, Crosciarchi, ha dato fuoco alla vendere degli stracci, ha lasciato il carcere, accolta l'istanza del legale che lo ha seguito. Si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel, così il sindaco di Bagnoli, Irpino, annuncia l'arrivo dei primi sostegni in nuovi impianti di risalita. Si potrebbe tornare a sciare dopo sette anni. Napoli deve registrare una difesa che subisce troppi gol, così come la Salernitana che in casa facileca in Serie C. La Velino oggi torna a allenarsi e punta il derby col Benevento di lunedì sera. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Prima TV. Apriamo l'edizione di ora di pranzo con un'ultima notizia. C'è anche un campano tra i quattro lavoratori che risultano ancora dispersi alla centrale idroelettrica di Bargi, al lago di Suviana. Si tratta di Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli. Il suo nome è stato confermato dalla Prefettura di Bologna, al pari degli altri tre operai di cui sono in corso disperate ricerche. Attualmente il bilancio drammatico è di tre decessi e cinque feriti gravi per l'esplosione avvenuta nel Bolognese. I vigili del fuoco continuano a operare ininterrottamente. Lo scenario catastrofico purtroppo non dà grandi speranze, hanno riferito in queste ore gli addetti alle ricerche. Quattro vigilantes sono indagati per omicidio preterintenzionale. Secondo la procura avrebbero causato la morte di un 62enne cardiopatico di vicoequenza. I testimoni hanno raccontato l'aggressione prima verbale, poi fisica, subita dall'uomo. Sarà l'autopsia a fare luce sulle cause della morte di un 62enne di vicoequenza deceduto nel tardo pomeriggio di lunedì nel reparto di rianimazione del Policlinico di Napoli dopo una lite con un gruppo di guardie giurate sfociati in un'aggressione all'ingresso dell'ospedale universitario partenopeo. La procura di Napoli ha iscritto nel registro quattro vigilanti per omicidio preterintenzionale. Il 62enne in auto con la moglie e il fratello aveva chiesto di poter entrare con la macchina per raggiungere il reparto di cardiologia nel secondo padiglione universitario. Malato di cuore da oltre dieci anni aveva appuntamento con il cardiologo che avrebbe dovuto decidere se sottoporlo o meno ad un nuovo intervento chirurgico. L'uomo avrebbe chiesto di poter passare con l'auto fino all'ingresso con la promessa che il fratello poi sarebbe tornato indietro per parcheggiarla. Lo ha raccontato la moglie, lo ha ribadito il fratello ai carabinieri che li hanno interrogati a lungo. Purtroppo nessuno dei due è riuscito a sottrarre l'uomo alla furia di chi lo aggrediva prima verbalmente e poi a suon di botte. Secondo i parenti uno dei due vigilanti lo avrebbe strattonato con violenza facendolo cadere poi avrebbe iniziato a colpirlo all'addome. Nel frattempo sarebbero arrivati i rinforzi, altre due persone che, sempre sulla base del racconto dei testimoni, anziché provare a riportare la calma avrebbero iniziato a picchiare anche loro. Fino a quando non sono arrivati i carabinieri ma ormai era troppo tardi. Il 62N sarebbe morto dopo poche ore nel reparto di rianimazione dello stesso ospedale. Una dinamica in corso di verifica sulla quale gli inquirenti hanno aperto un fascicolo. A rendere più complicato il lavoro dei militari dell'arma e degli investigatori della procura contribuisce l'assenza delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. In campo anche la direzione strategica dell'azienda ospedaliera Federico II. Il manager ha costituito in via d'urgenza una commissione di indagine interna finalizzata ad acquisire ogni informazione utile per accertare l'accaduto. I carabinieri del NAS di Salerno nel corso di tre mesi di controlli sulla sicurezza alimentare nelle province di Avellino, Benevento e Salerno hanno sequestrato 24 tonnellate di alimenti non tracciati per un valore di 146 mila euro. Sono state combinate 182 sanzioni per 62 mila euro e 78 persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria. In particolare durante le festività pasquali sono state sequestrate 230 pastiere, prodotti dolciari, cioccolato, formaggi, carne e prive della documentazione attestante la provenienza. Durante il primo trimestre dell'anno le ispezioni sono state 287 con 120 risultati non conformi. Le file di sottoosservazione sono state quelle della carne, della produzione, lavorazione e commercio di prodotti lattiero caseari da forno, dolciaria dove a fronte di 207 controlli in ben 95 casi si sono riscontrate delle irregolarità con 78 sanzioni amministrative elevate. Nel corso delle verifiche si è reso necessario adottare 11 provvedimenti di sospensione ad oras delle attività a seguito di gravi carenze igienico-sanitarie rilevate dai medici competenti a ASLT a cui sporco pregresso, servizi igienici in carenza di condizioni sanitarie, presenza di muffa, umidità, polvere e ragnatele, attrezzature arrugginite, locali privi di areazione e depositi in pessime condizioni generali. Nello specifico delle province a Salerno su 187 controlli, 77 risultati non conformi, 116 sanzioni amministrative elevate per un importo di 35.000 euro, 49 persone segnalate alle autorità giudiziarie. Ad Avellino 66 controlli totali, 30 risultati non conformi, 53 sanzioni elevate, oltre 24.000 di importo complessivo e 20 persone segnalate. Infine nel Sannio, 34 controlli a Benevento con 13 risultati non conformi, 12 diffide e 1.500 euro di sanzioni segnalate, 9 persone. Aggiornare la mappa inesistente dei sottoservizi a Napoli, manutenzione ordinaria prima delle emergenze nel resto del territorio, focus di RAID sul distesto idrogeologico in Campania. Rolli e frane a Napoli e in Campania, il confronto nell'ultima puntata di RAID ha fatto emergere le priorità necessarie di intervento. I fondi infatti non basterebbero mai alla messa in sicurezza. Ciò non toglie che si debbano individuare le urgenze. A Napoli, dopo i crolli in via Morgan, la priorità è mappare i sottoservizi, a cominciare dalla rete idrica e fognaria fatiscente. Io direi che la cosa importante è cominciare a raccogliere i dati con uno scopo ben preciso, quello di crearla la mappatura, perché sicuramente molti dati ci sono, ma sono sparsi. Questo assieme al censimento delle cavità sotterranee, perché come accennavo prima, la cavità sotterranea crea da una buca piccola, come abbiamo visto davanti alla scuola, potrebbe creare una voragine se fosse presente nelle zone limitrofe. Questo consentirebbe di dare una priorità agli interventi. Dovendo rifare la condotta fognaria, è improponibile rifare tutte le condotte fognarie di Napoli. Si dice che sotto c'è un vuoto e bisogna capire perché c'è questo vuoto. Sappiamo che il 50% delle condotte, sono ottimista, sia idrauliche che fognarie, a Napoli perdono acqua da tutte le parti, diciamo noi, perché si tratta di sistemi antichi, obsoleti, per i quali non è stata effettuata mai manutenzione e dei quali si ignora addirittura la mappatura. Quindi è una situazione gravissima. Credo che Napoli è una delle poche città al mondo, dove io sono stato all'estero di recente, anche in Australia, a Sidney, dove non c'è una mappatura dei sottoservizi. È una cosa assurda. Nei piccoli e grandi comuni la manutenzione ordinaria col contributo di Regione ed Unione Europea è la priorità perché prevenire costa sette volte meno che intervenire in emergenza. Secondo me la manutenzione del territorio è fondamentale. Come se ne esce? Se ne esce che poi quando il malato non si cura in tempo, alla fine diventa incurabile. Quindi vuole un intervento un po' più radicale dalla Regione, dal Governo centrale, dall'Europa stessa, perché no? Anzi, su questo bisogna lavorare perché credo che sia una delle cose importanti. Noi dobbiamo tenerci quello che abbiamo e conservarlo. Per fare questo, come tutto, ci vuole le manutenzioni, ci vuole l'assistenza al territorio, che è una cosa che manca. L'appello alla Regione degli operai forestali stagionali in campagna. La formazione è prioritaria per ridurre i costi rispetto all'emergenza e noi siamo le sentinelle del territorio. Dei circa 2.200 forestali impiegati in campagna alla metà è stagionale. Col blocco delle assunzioni dal 2007 si aggiungono a sprazzi operai selezionati tramite agenzie ai precari e agli stabili. Nel corso dell'ultima puntata di Ride, voce ai forestali campani sul tema del dissesto idrogeologico. Se prima eravamo trocchi, adesso siamo pochi. Poi è dal 2008 che non c'è ricampio generazionale, quindi non ci sono nuove assunzioni. Buona parte sono quasi prossimi alla pensione e siamo effettivamente in pochi adesso. E quindi, come dire, c'è un appello da questo punto di vista a rafforzare, immagino anche chiedo al sindacalista, oltre che all'operaio che è in prima linea in questo momento. Certo, a rafforzare e soprattutto a risolvere questa questione degli stagionali. Per quale motivo non utilizzarli? Siamo 1.200 operai forestali che lavoriamo come stagionali, cioè parte dell'anno. Per quale motivo non investire sull'oro, che sono figure già formate e quindi possono aiutare molto in questa vicenda del dissesto idrogeologico. Prendere la disoccupazione a casa, senza lavorare, penso che sia un... E bisogna investire, dice Napolitano giustamente. Poi però arrivano anche colleghi tramite agenzie. Lì si crea un cortocircuito, secondo me, da mettere a posto. Lo dico io, non lo stai dicendo tu, sempre da cronista, fammi sottolineare un po' le cose che vedo. Certo, sì, bisogna investire. Bisogna investire su figure formate. formate e, perché no, anche figure nuove, formandole... Sì, non è che siamo contro le nuove estensioni, anzi, ben ben, come l'ho detto prima, c'è bisogno di nuovo personale, perché dal 2008 che non abbiamo ricambio generale nazionale, quindi sarebbe opportuno con la formazione adeguata fare quello che... perché ti ripeto, la formazione è importante e il nostro ruolo è quello di, non di prevenire, ma di prevenire prevenzione, prevenzione che potrebbe essere utile per evitare le emergenze, perché si spendono molti soldi nell'emergenza, nel post-emergenza. Tutti quei soldi potrebbero essere investiti nella prevenzione. tra le ricette contro il dissesto idrogeologico a Napoli in campagna arriva nel corso di raid anche l'appello a guardare la città con gli occhi dei residenti, il turismo di massa non distrugga o calpesti un territorio già fragile, così rappresentanti della rete sociale. nobox. tra le ricette contro il dissesto idrogeologico a Napoli in campagna arriva nel corso di raid anche l'appello a guardare la città partenopea con gli occhi dei residenti, il turismo di massa non distrugga o calpesti un territorio già fragile, così i rappresentanti della rete sociale no box. stanno rispondendo le persone, segnalando, creando quindi una mappatura, non essendoci ancora una dei sottoservizi, una mappatura dei dislivelli, di tutte le problematiche che si vedono ad occhio nudo sull'asfalto e se ne contano già molte. Quello che la rete sociale no box, che come sottotitolo adesso anche ha diritto alla città, proprio perché l'amministrazione è troppo sorda a quelli che sono diritti fondamentali dei cittadini, dando tanto e ampio spazio a tutto ciò che riguarda il turismo, è la richiesta di una ZTL a San Martino, perché in uno al problema della rete fognare, che come abbiamo detto è antica, è un territorio che non può sopportare un continuo passaggio anche di pullman turistici, sollecitazioni continue. Per questa ragione si chiede una ZTL a San Martino, la ZTL, diciamo, tendo a precisare per persone che naturalmente abitano in quella zona e sono preoccupate magari per l'accesso di ambulanze, vigili del fuoco, ma anche una spesa che possa arrivare lì, naturalmente una ZTL preveda che questi servizi vengano garantiti alla cittadinanza, ma è la prima cosa da fare. Abbiamo sentito dire che la proposta, invece, alcune delle proposte fatte sia stato da far pagare una tassa maggiorata ai pullman turistici per farli accedere comunque, allora non si è capito qual è il problema, sono zone da tutelare. Andiamo nel Sannio, Piazza Lagarda, Montesarchio, sgominato giro di vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti, tre persone finite, domiciliari, altre tre con obbligo di firma. Tre persone agli arresti domiciliari, altrettante sottoposte all'obbligo di firma, tutte destinatari ed in ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura all'esito delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, le accusi a vario titolo per i sei indagati. Indagini avviate dopo poco alcuni sequestri di droga avvenuti nell'ottobre del 2021 all'interno della piazza Lagarda di Montesarchio. La droga, secondo la ricostruzione dei militari, veniva rimenuta in diversi punti della piazza facendo sospettare la presenza di soggetti dediti a attività di spaccio sul posto. Più precisamente, durante i diversi mesi in cui sono stati svolti i suddetti accertamenti, si riusciva a ricostruire la presenza all'interno della predetta piazza Lagarde di un vero e proprio mercato di stupefacenti con alcuni soggetti che si appostavano all'interno della piazza in attesa di clienti, procedendo ad una frenetica e redditizia attività di cessione di droga, principalmente del tipo hashish o marijuana. L'attività investigativa dunque, rimarca la procura, permetteva di ricostruire decine di episodi di spaccio commessi fino a luglio 2022, procedere all'arresto in flagranza di due persone, identificare circa 85 acquirenti di sostanze stupefacenti e sequestrare circa 800 grammi di marijuana, 200 grammi di hashish, 30 grammi di cocaina e 15 grammi di crack, anche in relazione ai reati per i quali si è già proceduto separatamente. Questa mattina i carabinieri di Montesarchio, con l'ausilio delle unità cinofile di Sarno, hanno notificato i provvedimenti ai sei indagati. Gli uomini della Guardia di Finanza di Caserta hanno scoperto e sequestrato 200 kg di sigarette illegali e un arresto in flagranza dovrà rispondere di ricettazione e contraffazione. Oltre 1,2 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli a Villa Literno, in provincia di Caserta. I finanzieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ora accusato di contraffazione e ricettazione. Le fiamme gialle del gruppo di fratta maggiore hanno individuato un furgone sospetto di rigersi in un'area insolita del comune casertano e grazie ai controlli è stato possibile sequestrare le bionde di contrabbando e anche un autocarro. Dalle verifiche è emerso che i pacchetti di sigarette riportavano tutti il medesimo codice univoco che dovrebbe in realtà corrispondere soltanto ad un singolo pacchetto. Qualora fossero state messe nel mercato illegale le sigarette avrebbero consentito di realizzare un illecito guadagno di oltre 200.000 euro. Le indagini proseguono sotto la direzione della Procura della Repubblica di Napoli Nord. Il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri è in crescita solo dagli inizi dell'anno nel corso di vari interventi finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sottoposto a sequestro oltre 2,5 tonnellate denunciando 123 persone. Varie le zone della città e della provincia interessate dai quartieri cittadini di Secondigliano e San Pietro a Patierno ai comuni dell'Interland come Marano di Napoli, Villaricca e Saviano. Sarà affidato ai servizi sociali della parrocchia Isaia. Il trentenne clochard ha dato fuoco alla venere degli stracci di pistoletti, ha lasciato il carcere accolta all'istanza del legale che lo ha seguito in questi mesi. Il sole stava sorgendo su Napoli mentre le fiamme consumavano la venere degli stracci allestita in piazza municipio e da pochissimo inaugurata. Di lì a poco nonostante l'intervento dei vigili del fuoco della venere sarebbe rimasta solo una carcassa di metallo annerita. Le ricerche del presunto autore del gesto avevano avuto rapidamente termine portando all'arresto prima e alla condanna di Simone Isaia. Il clochard 33enne era stato ritenuto responsabile di aver innescato l'incendio e per questo, nonostante le parole dello stesso artista Michelangelo Pistoletto, che per lui aveva chiesto una pena lieve, aveva ricevuto una condanna a quattro anni di carcere. Rinata dalle sue ceneri, la venere è tornata il mese scorso a Napoli per volontà del maestro Pistoletto, che ha voluto regalarla alla città proprio come simbolo di rigenerazione e resilienza. E in uno strano parallelismo con l'opera d'arte che aveva contribuito a ridurre in cenere, anche Isaia si trova ora davanti a una svolta nel suo futuro. Lo scorso 4 aprile la Corte di Appello aveva ridotto la sua pena a due anni e mezzo e ora ha disposto la sua scarcerazione, in favore di un inserimento all'interno della comunità di Don Franco Esposito al rione Sanità. Una nuova vita, un'esperienza che lo porterà a contatto con formatori ed ex giovani a rischio. Una rinascita dalle sue ceneri, come quella della venere degli stracci. Un verdetto che al netto di eventuali ricorsi in Cassazione potrebbe dare al 33enne, affetto da problemi di natura psichica, una nuova chance. Dopo una riunione fiume, il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato il documento di bilancio di previsione 2024-2026, all'ordine del giorno anche finanziamenti per la riqualificazione dei centri storici della periferia. Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026, tre gli ordini del giorno a firma del gruppo Fratelli d'Italia, illustrati dal consigliere Giorgio Longobardi e approvati ad un'animità che impegnano sindaco e giunta a valutare la possibilità di eseguire una serie di interventi di manutenzione stradale in via Salvatore Dalì, Vico a Citillo e via Sant'Erasmo. Ha approvato all'unanimità anche un ordine del giorno a prima firma del consigliere Ciro Borriello che impegna l'amministrazione a prevedere stanziamenti economici per la riqualificazione dei centri storici periferici di tutti i borghi della città. A maggioranza con l'astenzione di Lange è stato approvato un secondo ordine del giorno, sempre illustrato da Ciro Borriello, che riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria dei muri di contenimento di pertinenza delle strade comunali. Il bilancio del Comune di Napoli, che è stato approvato la scorsa notte, rappresenta per noi un punto d'arrivo ma anche un punto di partenza. Le parole nel corso del dibattito del primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, noi abbiamo tutti insieme delle scelte molto complicate da fare, ricordando che fino a due anni fa eravamo in dissesto e quindi dobbiamo anche rivendicare quest'azione che è stata fatta. Nel Tg Sport di oggi spazio al Napoli, che dovrà registrare una difesa che subisce troppi gol nell'ultimo periodo, così come la Salernitana che in casa facilecca la Ricchi non è un fortino per i Granata di Colantuono e poi la Serie C con l'Avelino che oggi torna ad allenarsi e punta al derby con il Benevento di lunedì sera, spazio anche alla Corsa Salvezza con la Turris coinvolta nei play-out. Noi ci fermiamo per una breve pausa, tra poco restate con noi. Ben ritrovati per la seconda parte della telegiornale, si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Così il sindaco di Bagnoli, Irpino Filippo Nigro, annuncia l'arrivo dei primi sostegni dei nuovi impianti di risalita. Con la presenza degli enormi tubi di acciaio diventa concreta la possibilità di poter tornare a sciare dopo sette anni. Dopo sette anni diventa concreta la possibilità di poter tornare a sciare sull'alto piano di Bagnoli Irpino. Proseguono i lavori per la riattivazione dell'impianto alla Ceno, ma la buona notizia è che sono arrivati i primi sostegni per i nuovi impianti di risalita che interessano la seggiovia Raia Magra. Completate le opere civili, le fondazioni per i sostegni della seggiovia Serroncelli, sono iniziati i lavori per le fondazioni e sono in arrivo i sostegni per la seggiovia Settevalli. Una bella giornata per il la Ceno che ci induce a guardare al futuro con ottimismo e fiducia. Questo si legge sulla pagina social dell'amministrazione comunale di Bagnoli Irpino. Si incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel. A novembre dell'anno scorso l'Aggiunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per gli impianti sciistici sulla Ceno. Resta da sciogliere il nodo della gestione che interessa l'intero comprensorio sciistico, quindi seggiovie, piste, parcheggi e maneggio. È intenzione dell'amministrazione in dire una gara europea a cui potranno partecipare grandi player internazionali. Un bando da redigere con l'aiuto di esperti in modo da definire obiettivi e strategie. Quello della Ceno è l'unico impianto sciistico campano ed è fermo da maggio del 2017. L'intervento finanziato dalla Regione Campania è pari a 13 milioni di euro. Il comune di Bagnoli-Irpino inoltre ora ha la piena titolarità sui terreni interessati dalla costruzione dei nuovi impianti di risalita. Infatti, paradossalmente, con i lavori in corso, c'era ancora un punto interrogativo sul fronte burocratico a causa del contenzioso tra il comune di Bagnoli e l'ex concessionario degli impianti sciistici, la società Giannoni, che aveva reclamato alcune aree sul tracciato degli impianti durante e dopo le procedure di sgombero. Ma il Consiglio di Stato ha messo la parola fine al lungo braccio di ferro amministrativo e questo è un anno molto importante per il Laceno. Si attende infatti la fine dei lavori e l'individuazione del nuovo gestore degli impianti sciistici, che dovranno necessariamente diventare un attrattore per 12 mesi all'anno. Destagionalizzare l'offerta turistica diventa una necessità, considerando che anche quest'anno la neve non è stata poi così tanta. Il cambiamento climatico ha infatti accorciato di 4-6 settimane la stagione sciistica. Saranno raddoppiati i tassi per le strade di Napoli in vista della bella stagione addio alle lunghe tese di pendolari e turisti almeno fino a fine settembre. Il Comune di Napoli, in previsione dell'aumento del flusso in città di turisti, ha in programma di raddoppiare il numero di taxi in circolazione, tutto ciò fino a settembre. Per evitare difficoltà con il reperimento di taxi, Palazzo San Giacomo ha predisposto un progetto per tenere più auto in strada negli orari e nei giorni in cui è prevista maggiore richiesta, una maniera per evitare lunghe code ai posteggi e rifiuti alle richieste via telefono. Il progetto è sostenuto dai tassisti, che da sempre segnalano difficoltà quando aumenta il numero dei turisti soprattutto nel fine settimana, con una richiesta maggiore di taxi rispetto a quelli disponibili. Si è giunti alla modifica dei turni di lavoro in modo da affrontare al meglio i prossimi mesi. Le prime novità sulla presenza dei taxi in strada si concretizzeranno fra un paio di settimane, fra le festività del 25 aprile e del 1 maggio, periodo nel quale a Napoli si annuncia l'arrivo di centinaia di migliaia di visitatori. A partire da oggi e fino al termine di questo periodo, durante i weekend si è predisposto un turno che metterà 355 auto bianche in più rispetto ai veicoli normalmente in servizio, a disposizione dei passeggeri. Invece, da fine aprile e fino alla fine di settembre, durante i weekend, a Napoli saranno disponibili in media 530 taxi in più rispetto a quelli abitualmente in servizio. Il maggiore incremento di autoveicoli sarà concentrato nell'ampia fascia oraria delle 8.30 del mattino alle 18, quando a Napoli si muoveranno in totale 611 auto bianche in più rispetto a quelle di solito in strada. Negli altri due turni, quello dalle 6 alle 8.30 del mattino e quello dalle 18 a mezzanotte, l'incremento rispetto alla media sarà di 355 veicoli. Alcuni degli studenti protagonisti degli scontri di ieri con la polizia in occasione dei 75 anni della Nato raccontano cosa è successo. Non ci sono stati scontri, è stata una vera e propria aggressione ai danni dei manifestanti. All'indomani delle tensioni durante il corteo di protesta per il concerto al San Carlo per i 75 anni della Nato, attivisti e attivisti sono riusciti finalmente ad arrivare all'esterno del Teatro di Napoli, dove hanno tenuto una conferenza stampa per parlare di quanto accaduto durante la manifestazione e raccontare la propria versione. Qualcuno di loro, ci dicono, ha anche dovuto passare la notte in ospedale. Ecco, nelle parole di Chiara, tra le file dei contestatori, cosa è successo durante quei momenti di tensione. Noi eravamo in piazza solamente con cartelli a tre, non avevamo nessun bastone, non avevamo nulla fatto a offendere, non diciamo come quasi soldi raccontare manifestanti come fascinerose e violenti. Eravamo lì con dei cartelli che mostravano la brutalità della guerra, foto di paesi e popolazioni devastate. Ho trovato 60 celerini pronti a inverci contro, a manganellarci, a rincorrerci e a torturarci. Ho ricevuto tre manganellate, ho perso i sensi, sono sbattuto a terra. Io ho avuto cinque punti, una pronnesi di dieci giorni, ho dovuto fare un'attacca. Quello che è successo ieri dimostra ancora una volta come viviamo in un paese in cui, in teoria, esprimere il proprio dissenso, esprimere le proprie idee dovrebbe essere un diritto della Costituzione, ma la risposta del governo è sempre la stessa, ovvero la repressione. manganellarci. Siamo gli stessi studenti che sono scesi a Pisa, gli stessi studenti che sono scesi davanti alla Sede Rai, gli stessi studenti che sono stati manganellati a Roma. Mentre il governo e regione litigano per i fondi di sviluppo e coesione, gli industriali a Napoli lanciano un appello alla politica. Basta litio, rischiamo davvero di perderli questi fondi. Quello dei fondi europei per l'Italia è un tema importante. Oltre la diatriba fitto De Luca, che si concentra anche sull'autonomia differenziata, quello dei fondi sviluppo e coesione resta un nudo importantissimo da sciogliere. Se ne è parlato anche all'Unione Industriale di Napoli, nel corso di un appuntamento dedicato al rilancio dell'economia italiana in contesto europeo e mondiale. E proprio a livello mondiale, ci ha spiegato il delegato di Industria per l'Europa Stefano Pan, l'economia dell'Unione è in difficoltà. In dieci anni l'Europa nei confronti degli Stati Uniti ha perso il pillo equiparabile a quello dell'Italia, della Francia e della Germania messi insieme. Quindi da qui si capisce che la capacità di mantenere le prestazioni sociali dell'Europa, che sono le più alte del mondo, dobbiamo fare qualcosa. Tema del meeting, quello dell'organizzazione di una fabbrica Europa, come suggerisce il titolo dell'incontro. Ci ha spiegato il motivo il vicepresidente dell'Unione Industriale di Napoli, Carlo Palmieri. Fabbrica vuol dire mettere al centro l'industria, mettere al centro la manifattura, che negli ultimi anni, anche dal punto di vista proprio di indicazioni dei nostri politici, è stato messo un attimo in seconda battuta. Sappiamo che possiamo e dobbiamo crescere per le nostre caratteristiche italiane e quindi il mondo delle imprese e della manifattura è fondamentale. Ha sottolineato l'importanza per Napoli e la campagna dei fondi europei. Il presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria, Vito Grassi. Occorre dire che per i territori che stanno più indietro, i fondi di sviluppo e coesione restano il più grande strumento di possibilità di ridurre i divari. Cioè più del 50% degli investimenti che vengono fatti in questi territori sono frutto dei fondi di sviluppo e coesione. A questi si sono aggiunti negli ultimi anni il PNRR, confidiamo che ovviamente possa accelerare la riduzione dei divari. E questo era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio allo sport, arrivederci. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori.